Musica E vi do un saluto dal meraviglioso Campidoglio Se lo guardate bene, mi assomiglia veramente Perché andremo a signori Beh, potevi anche tuffarti lì dentro Andiamo al covo all'isola Tiberina Passando tra le galerie sotterranee Per fare il prossimo ricordo Appunto, me lo seleziona già Quindi è perfetto Esepicuere Sono pazzi questi romani Ah, si parte subito con la cutscene Perfetto, col dottore Dov'è Machiavelli? Non l'ho trovato Ho portato qui la contessa Hai fatto bene Ti dispiace dirci dove sei stato? A cercare Ezio Che mi dite di Cesare Rodrigo? Cesare se n'è andato prima che potessi avvicinarlo Quanto a Rodrigo non c'era proprio Che strano Rodrigo di solito è al castello Davvero molto strano Che spreco di tempo Senza offesa Figuratevi Ora che Cesare si trova a Urbino Dobbiamo rinforzarci Pensavo volessimo colpire subito No Impossibile Cesare comanda un esercito enorme in Romagna Non ce la fareste mai Io dico di operare qui A Roma Erodere l'influenza di Borgia E rafforzare la nostra E ho intenzione Di iniziare da subito Volpe Porta qui Claudia e Bartolomeo Machiavelli Raggiungimi fuori Abbiate cura di lei Guarda I Borgia privano il popolo di tutto Per mantenere il potere E che cosa intendi fare? Lo recluteremo per la nostra causa Starai scherzando? Per no Vincere la guerra Machiavelli Ci servono combattenti leali Reclutando nemici dello stato Riarmeremo coloro che sono stati disarmati dai Borgia Allora va Trova le nostre prime reclute Oh finalmente gli adepti assassini Non perdere più di 5 riquadri di salute Sti cazzi Va bene Pronto a tutto Recluta due abitanti di Roma Ma noi abbiamo l'ascione Quindi non c'è da preoccuparsi E questo palesemente È un chiamiamolo tributo ad Assassin's Creed 1 Forse veramente Ora non voglio essere paraculo Ma è la cosa più divertente Che c'è da Assassin's Creed 1 Brava Che donna La liberazione di Roma è iniziata Grazie Le mie capacità sono limitate Ma se me lo concederete Lotterò al vostro fianco Ovviamente siamo ricercati no? Che ti aspettavate? Assassini reclutati 1 o 2 Però l'altro dov'è? Vabbè dai ce n'è parecchi Ma se andassi nelle gallerie E atterrassi al Pantheon Anzi atterrassi E emergessi al Pantheon Non sarebbe male no? Campidoglio Pantheon Non è tanta strada però Piuttosto che camminare o chiamare un cavallo Faccio prima fare così Non vorrei che mi interrompesse la missione andando giù Cosa che potrebbe succedere Ma invece no Ah Invece sì Cavallo Comunque E' abbastanza assurda sta cosa Cioè io devo usare per forza Uno spostamento via terra Perché se no mi si interrompe la missione Che cagata E comunque Riquadri di salute persi Per ora zero Era giusto per dirvi Ok Lo percepisco Lo percepisco Lo percepisco Questa dovrebbe essere Tipo oggi piazza della chiesa nuova E anche se non siamo andati al soccorso del Pantheon Va bene lo stesso Io sono tagliato i testicoli Eh però è sopra Oh cazzo Sì palesemente non è mica il Pantheon questo Ero eronico eh E noi si fa così Pum Ma lasciala stare Vieni Boom Tutte donne La liberazione di Roma è iniziata Se respiro ancora Lo devo a voi Le mie capacità sono al vostro servizio se volete 400 fiorini 100% di sincron Cioè meglio di così che volete No